Eccoci di nuovo qua, per la seconda parte dell'iniziativa odierna del seminario formativo dedicato ai progetti didattici all'interno delle scuole, lascio subito la parola a Claudio Vercelli per l'intervento dal titolo I nodi della storia del Novecento, un cantiere didattico aperto. Bene, posso partire direi. Buongiorno a tutti, mi sposto sul loro orologio in modo tale da termini, calmerare e misurare l'intervento dal punto di vista temporale, non dal punto di vista dei contenuti. Volevo ringraziare in maniera non occasionale e casuale Nicola e Barbara perché in qualche misura mi hanno dato l'assist, come si dice oggi, per una serie di considerazioni. Il mio intervento riguarderebbe i nodi della storia del Novecento, un cantiere di didattico aperto. Si può spaziare su molte cose, è necessario però anche per un riversamento in aula, per un riversamento in classe, soffermarsi su alcune questioni che in qualche modo si ricollegano a quanto è già stato detto, si ricollegano e riprendono alcuni passaggi chiavi. Io in genere utilizzo anche come didattica, sia per quanto riguarda le classi cosiddette, come si usa, linguaggio oncologico, terminali, scuole superiori, linguaggio oncologico come quello biologico attraversa la storia, quantomeno la storia della modernità. Questo è una riflessione all'atere. Ma dicevo, sia per quanto riguarda le classi quinte, sia per quanto riguarda anche il triennio, il triennio dell'università, quello che altrimenti viene chiamato da certuni il liceone, uso il sistema quando posso, quando è plausibile delle parole chiave e della lettura critica delle immagini. Se devo introdurre un tema come il fascismo, e sono da solo, nel senso che ho un testo di riferimento, ma poi devo comunque confrontarmi con un pubblico che ha delle caratteristiche generazionali, specifiche, peculiari, tra l'altro la generazionalità, né più né meno come il tema del genere, sono cose imprescindibili oramai nella riflessione storica e anche in quella storiografica. Ecco, se devo confrontarmi con questi soggetti per riuscire a fare un lavoro di contestualizzazione, non parto dal generale ma parto dal particolare. Prendo un'immagine e sottopongo il limite delle circostanze alle sollecitazioni, alla lettura critica che mi viene offerta dal pubblico studentesco, tutta una serie di considerazioni che da ciò posso far derivare. Fra l'altro, per me, quando questo è possibile, è anche un lavoro per tenere, è anche un modo per fare un lavoro che tiene insieme due elementi, la LIM e la vecchia lavagna. Perché? La LIM proietta, guardate, i mezzi sono anche, non sono un messaggio, ma sono una parte del modo in cui comunichiamo. La LIM tiene insieme ovviamente le parti, diciamo così, tra virgolette, di tecnologia consolidata. La vecchia lavagna è indispensabile nella misura in cui io prendo le loro parole e cerco di costruire insieme a loro, se sono ovviamente disponibili a farlo, se mi seguono, ma in genere quando leggono le immagini sono abbastanza coinvolti. Cerco di costruire un percorso di significati. Questi significati possono anche variare a seconda del tipo, passate in un altro termine, di utenza con la quale ho a che fare. E beh, uso un linguaggio amministrativo burocratico, visto che ormai il ruolo docente è un ruolo sempre più amministrativizzato in buona sostanza. Ma, più grande l'ironia, anche un po' del sarcasmo. Questi, dicevo, questi contenuti, questi percorsi possono anche cambiare e mutare a seconda degli interlocutori, però in qualche misura portano poi a dei risultati, o dovrebbero portare a dei risultati abbastanza univoci e condivisibili. Anche perché, andiamo avanti per degli step, per dei passaggi, noi abbiamo a che fare, come si diceva prima, lo diceva, se ricordo bene Nicola, con un tipo di pubblico che, o quantomeno se non lo diceva lo introduceva, che vive in una dimensione fortemente ancorata al presente. I processi, con Igor Piotto ci conosciamo da una vita, di depoliticizzazione, Igor è sparito, ma insomma lo cercavo. Sei lì? Ok. I processi di depoliticizzazione che da tempo attraversano una società, da circa 40 anni, in qualche misura, hanno un riversamento inevitabile e inesorabile anche nella comunicazione didattica, nella trasmissione didattica, nella formazione, nella percezione dei tempi e degli spazi è mutata radicalmente da una generazione all'altra. E il presente sembra essere una sorta di tempo eterno, che è un tempo anche senza storia. È un tempo che si narra da sé, che non richiede di essere narrato. Fra l'altro da questo deriva anche la inessenzialità, permettetemi tutti questi riferimenti, questi link, come sempre mi complico la vita e la complico anche al mio pubblico. Ecco, questo non doveva assolutamente succedere, scusatemi, è proprio il classico... scusatemi, è proprio il classico... tampa. Dicevo, mi complico e vi complico la tampa... Vabbè, siamo in Piemonte, insomma, quando sarò in Veneto muterò, muterò i termini da utilizzare al riguardo. Ma stavo dicendo, ci complichiamo la vita, però rimane il fatto che davanti, come dire, a una situazione di questo genere, la percezione della storia non richiede più, in qualche modo, di essere affidata alla intermediazione. Cioè, la storia è quella che faccio io, non la storia siamo noi, la storia sono io. Per estensione, la storia è la mia famiglia, intesa come entità tribale. Non credo di dire nulla di sorprendente, se... a me non è capitato, ma amici, colleghi, conoscenti, è successo, i docenti di turno, è stato fatto anche in università, è stato fatto di bersaglio da comunicazioni della famiglia, dicendo, il voto che lei ha dato è troppo basso, questa cosa traumatizza mio figlio. Questa era una cosa che, quando noi studiavamo, siamo già vecchiottini, ma non siamo ancora troppo vecchi, malgrado tutto. Era assolutamente inconcepibile. Oggi è una cosa, invece, che può capitare, può succedere. Fra l'altro, pensate bene alle parole trauma. Una società di traumatizzati, una società di feriti. Prima si parlava, e questo l'ha usato proprio Nicola, ricordo bene, di deprivazione relativa, dei cetimedi, diremmo noi oggi, della piccola borghesia, soprattutto, che ritornava dalla guerra, o che aveva un figlio che ritornava dalla guerra, o che aveva più il figlio, perché non era più tornato dalla guerra, era morto, e che viveva le trasformazioni economiche, sociali, che qualsiasi processo post bellico porta con sé, ebbene, raccogliete quell'aspetto di cento anni fa e riflettetelo sul presente che stiamo vivendo, dove c'è chiaramente una trasformazione dello statuto sociale, economico e culturale dei cetimedi, delle classi medie, non soltanto evidentemente in Italia, ma in una parte consistente, direi, del pianeta a sviluppo avanzato. è una connessione tra il passato e il presente, dentro questa trasformazione di intermediazione culturale salta, diventa sostanzialmente inessenziale, o diventa al limite un elemento, diciamo così, di corredo, un elemento in qualche modo ornamentale, che deve semplicemente confermare qualcosa di precostituito. Sto radicalizzando e estremizzando certi concetti, può darsi, ma rimane il fatto che ognuno di noi, se ha un ruolo docente o comunque si confronta con la realtà della scuola, anche solo come genitore o quant'altro, si trova spesso dinanzi a questo tipo di situazione, non sempre, ma con una certa frequenza, frequenza crescente. In tutto questo contesto di cornice, cosa ci metto dentro rispetto al tema dei nodi della storia del Novecento? Non faccio nessun elenco, o per meglio dire, sollevo tre questioni che cerco poi non di svolgere, ma solo di tenere sullo sfondo delle mie argomentazioni. Il problema delle masse, il problema del potere, il problema della violenza. Questi tre elementi sono stati citati già da chi mi ha preceduto. Le masse come soggetto storico. Noi stiamo vivendo un'epoca dove i soggetti sociali sono pressoché obnubilati, dimenticati, cancellati. C'è un soggetto egolatrico, è l'individuo, un individuo peraltro fragile, debole. Insomma, ci sono mille studi in sociologia che raccontano queste cose. La crisi della politica sta anche dentro questo fatto qua. Non ci si sente più parte di una collettività, se non di una collettività fittizia, come tale intercambiabile. la nazione, l'ennia, il popolo, la gente, concetti multiformi. Certo, lo sono stati anche classe, partito e quant'altro, però concetti in questo caso multiformi perché in realtà non segnalano una condizione collettiva, ma il rifarsi da parte individuale ha una dimensione assolutamente astratta, ma rivendicativa in buona sostanza, ma non è la rivendicazione della vecchia politica, cioè i diritti e la rivendicazione lo si diceva antecedentemente con l'interlocutore soprattutto di un risarcimento per i traumi subiti. Allora, faccio il provocatore, spero di non essere frainteso visto che è un pubblico che è abbastanza immagino sensibile a questo ordine di temi. Masse, potere e violenza. Le inserisco all'interno di alcuni temi di fondo, tutti da sviluppare che ovviamente non posso articolare qui, ma semplicemente elenco come titoli di un ipotetico lavoro da svolgere anche all'interno delle scuole da dove è possibile. Il linguaggio che utilizziamo è un linguaggio del Novecento, non potrebbe essere che così. I nostri riferimenti culturali sono quelli. Siamo cresciuti in quel contesto, non vedo per quale ragione dovremmo poter fare a meno di quelli riferimenti che sono invece per noi indispensabili. Questo linguaggio però secondo me comunica molto poco, cioè lo comunica qualcosa tra di noi, ci permette sia pure in forma spesso residuale di essere gruppo, ma non aggancia una parte degli interlocutori. Quando io parlo di linguaggio non parlo chiaramente di una cosa superficiale, parlo di qualcosa di molto profondo, qualcosa che va a toccare tasti, non dico emotivi, ma di identificazione. Questo è un primo problema, anzi, non è neanche un problema, è una condizione su cui dobbiamo confrontarci, perché noi parliamo di una società in via di digitalizzazione che implica tantissime cose, ma lo facciamo utilizzando categorie che ci derivano dalle società industriali. E questo è un problema, è una discrasia ed è una disarmonia non da poco dal punto di vista non solo concettuale ma proprio esperienziale. Secondo passaggio, seconda questione che attraversa i problemi relativi ai nodi della storia del Novecento ed era evocato prima da Maria Grazia Sestero, si conclude definitivamente l'età del testimone, definitivamente, del testimone di quelle cose lì su cui molti di noi, tutti noi, direttamente o indirettamente, hanno costruito una identità anche professionale, oltre che sociale. Per noi quella roba lì è ciò che ha generato, sia pure attraverso una partenogenesi violentissima, ha generato la stagione dei diritti, ha generato la stagione della rivendicazione collettiva dei diritti, dell'acquisizione di consapevolezza di essere titolare e di sindacare dei diritti. Chiudendosi quell'epoca lì e chiudendosi la testimonianza, le implicazioni sono molteplici. vi faccio anche presente che l'età del testimone non è l'età di tutto al secondo novecento, ma è l'età a noi molto più prossima, tra i fine degli anni 70 e, diciamo così, i giorni di Liliana Segre, ecco via, se proprio vogliamo fare un riferimento. Non è un caso se molti, parentesi che chiudo subito, non è un caso se molti, davanti al disagio che hanno provato nell'elezione dell'attuale Presidente del Senato della Repubblica si siano tra virgolette rifugiati, permettetemi questa parola, che vuole essere assolutamente rispettosa nei confronti di tutti, nelle parole di Liliana Segre. Ma le parole di Liliana sono parole che evocano soprattutto smarrimento e sconforto, al di là delle esortazioni. Ci siamo rifugiati in quello anche perché viviamo smarrimento e sconforto. Però l'età del testimone dicevo, ha una sua durata, un suo inizio, una sua conclusione, non solo per un dato anagrafico e cronologico, ma per un dato legato proprio alle sensibilità politiche e civili che si sono accompagnate ad essa. Essenzialmente è l'età in cui si racconta, si fa formula e si declina poi un corpus vittimistico, un vittimologico che ha sostituito completamente il discorso politico precedente che era il discorso invece degli oppressi che vanno a liberarsi. Tutto il discorso che ruota intorno al calendario civile, non solo italiano, è un discorso che ruota intorno al riconoscimento della vittima e che di per sé è ineccepibile. ma se al riconoscimento della vittima non si accompagna anche l'elemento fondamentale della strumentazione per costruire cittadinanza ovvero sia per in qualche modo superare le condizioni che trasformano gli individui in vittime il rischio è che venga fatto solo metà del lavoro. Non so se mi comprendete e mi seguite, spero di sì. È un problema grosso questo perché ad esempio io mi attendo in parte c'è già stata ma credo che con l'anno entrante sarà ancora più intensa un Kulturkampf da parte della destra sostanzialmente post fascista e illiberale ribadisco i due oggettivi post fascista e illiberale su giorno della memoria giorno del ricordo giorno degli alpini che è un bel minestrone l'hanno già fatto negli anni trascorsi alcuni tra i presenti in qualche modo ne sono stati toccati tra virgolette nella misura in cui se ne sono occupati qual è il nodo intorno al quale ruota la confusione lo statuto della vittima che è esattamente ciò che il post fascismo rivendica per se stesso allora forse diventa un pochino più comprensibile il discorso altrimenti molto astruso che ho fatto prima attenzione che la vittimofilia da questo punto di vista non è che porta a destra per usare vecchie categorie ma porta alla paradossale disattivazione della cittadinanza intesa come dimensione condivisa è un processo molto all'americana dove io non ho diritti in quanto cittadino io ho un diritto a un risarcimento se appartengo a un gruppo che viene riconosciuto collettivamente come perseguitato o come comunque un gruppo che in qualche modo ha subito nel passato dei torti che la società deve in qualche misura risarcigli la società istituzione eccetera non è un passaggio da poco nel processo diciamo così tra virgolette di americanizzazione che in qualche misura sta avvenendo sia da un punto di vista sociale ed economico sia soprattutto da un punto di vista culturale all'interno delle nostre società sta di fatto che da noi questo tipo di processo in qualche misura incentiva fortemente le spinte le pulsioni che arrivano da una destra che è sostanzialmente allergica al rispetto delle regole anche se poi può darsi che scenda a patti non è che il discorso sia fatto e concluso a priori ma la premessa culturale è questa questa premessa è presente anche in altre parti d'Europa pensate i riferimenti non a caso fatti recentemente il neo premier per quanto riguarda la Polonia ma lì riflesso anche l'Ungheria le due nazioni si presentano come due nazioni vittime del novecento le vittime del comunismo sono quella roba lì guardate che questa è una cosa molto forte in quel paese lì è sentito basta viaggiarci andarci anche solo occasionalmente e le cogliete immediatamente vi spostate dai grandi centri urbani dove c'è una maggiore circolazione culturale dove c'è una resistenza ad esempio accademica universitaria a questi slittamenti andate verso le grandi periferie e andate poi verso le grandi aree rurali e questa cosa è un discorso assolutamente comune l'altro settimana ero canton ticino avevamo fatto una conferenza sull'ebraismo dell'Ucraina eccetera eccetera e a un certo punto un signore di lingua tedesca mi dice ma guardi che effettivamente io ho parenti lituani non ebrei e lì l'antisemitismo hanno fatto tutto ovvio il discorso del complotto giudaico massonico che ha costruito il comunismo del giudeo bolshevismo ma è un discorso che è moneta corrente il modo in cui costoro si presentano nel dichiarare queste cose è il modo in cui dicevamo prima si presentano certe figure che di fatto lavorano per la segmentazione della cittadinanza cioè siamo vittime e abbiamo diritto ad avere un proscegno e occuparlo possibilmente in maniera totalizzante allora capite che gli ultimi 40 anni che io ho definito sommariamente come tale la testimonianza hanno prodotto anche questo tipo tra le altre cose un'eterogeneità dei fini diciamo così hanno prodotto anche questo questo riflesso non è che tutto fosse contenuto nell'a priori non è che le cose stiano così però bisogna essere ben consapevoli quindi della complessità dentro la quale andiamo a cadere fra l'altro aggiungerei anche rispetto al calendario civile sempre per parlare di noi della storia del novecento di vittime vincitori e di oppressi quindi di masse potere e violenza noi abbiamo a che fare con un calendario civile che in qualche misura ha supplito veramente la decadenza di un certo tipo di aggregazionismo civile e politico questo calendario col quale noi ci confrontiamo in qualche misura è anche figlio di quelle trasformazioni da dove la politica ha perso di aderenza ha perso di ruolo decisionale ha perso di ruolo diciamo così di potere perché quello che stiamo misurando è sostanzialmente questo e davanti anche a lo si diceva prima con Igor Piotto un processo di sfarinamento di una parte delle nostre società perdono pezzi qui in Italia come in altri luoghi per farla breve e per non tediarvi oltre misura perché immagino che inizierete a non tollerare troppo le mie elucurazioni io mi ero segnato alcune parole chiave su cui lavorerei rispetto in ordine della storia del Novecento rispetto anche e soprattutto poi a quello che è stato detto prima perché altrimenti si aprono mille altri orizzonti di riflessione le cito molto velocemente nazionalizzazione delle masse e elite come cambia il mondo liberale come declina il mondo liberale allora ma aggiungerei oggi anche cioè quel tipo di organizzazione dei poteri davanti alla pressione che Nicola in qualche modo evocava davanti alla pressione dal basso una pressione scoordinata una pressione con diversi elementi diversi soggetti davanti al fatto che tra Ottocento e prima metà del Novecento si crea una scena pubblica dentro la quale la costruzione e anche la manipolazione del consenso è qualcosa di indispensabile se si vuole procedere a certe scelte e come mutano quindi anche le elite nel corso del tempo non è poi un lavoro necessariamente così complesso da farsi se si fa un percorso di storia dell'Ottocento o Novecento in classe un altro parliamo per coppie come dire di ambivalenza dicotomie produttive un'altra la questione che a me viene in mente rispetto ai temi del fascismo di allora e i temi del post fascismo di oggi e sia pure con tutte le differenze del caso la dialettica oppositiva tra giovane e vecchio noi siamo il nuovo noi siamo il nuovo e giovane allora era giovane tanto più oggi è più difficile parlare di giovani se hai elettori prevalentemente pensionati però dice oggi siamo il nuovo è da circa 30 anni che si parla di nuovo in Italia guardate bene non sto dicendo che c'è continuità tra passato e presenti ci sono molte discontinuità però ci sono dei temi di fondo che ritornano che vengono riformulati il vecchio sono gli ordinamenti costituiti che sono superati culture camp ma io sono sicuro che per riuscire in qualche modo a ovviare anche i grandi problemi che avranno se riusciranno a stare in piedi dinanzi al panorama e al quadro economico si adopereranno sulla questione non delle riforme costituzionali ma della riforma della costituzione perché quello vuol dire aprire come dire un terreno di battaglia gigantesco su cui tieni poi inchiodata una parte della collettività e ciò che residua dell'opposizione alla rincorsa di tutto quello che può essere sparato di vuota in vuota tanto possono benissimo sparare anche dei proiettivi a salve ma lo fanno parlare come fa Gasparri di 194 è essenzialmente nel momento uno sparare nel vuoto a salve ma si segnala una cosa adesso il terreno ma non da adesso in realtà da molti anni ma adesso in maniera chiara ed esplicita il terreno delle discussioni lo decidiamo noi così come io ne sono certo anche se spero sempre di essere smentito su queste cose qua prenderemo specifico di cose di pertinenza comune con alcune persone qui presenti sui consigli regionali inizieranno a dove hanno la maggioranza come già è venuto in Veneto per dire abbattere rispetto agli studi storici della resistenza il il pertugio su cui inserirsi lo si è già capito da molto tempo è il discorso del confine orientale non serve a niente dire che Barbara Berruti lo sa benissimo molti istituti hanno lavorato con serietà io ormai da molti anni che lavoro con l'istituto Grossetano e stiamo facendo un lungo lavoro sul confine orientale con i colleghi triestini eccetera non è quello che interessa loro a questi signori è utilizzare una mitografia perché i fascismi di sempre sono essenzialmente mitografie non sono politiche non sono proposte politiche sono proposte mitografiche in cui identificarsi sono molto semplificatorio me ne rendo conto certe argomentazioni meriterebbero ben altri ben altri elementi di argomentazione ma rimane il fatto che vi comunico queste cose ulteriore scusate poi veramente libero il posto a chi deve venire dopo di me altri temi e altre parole chiave trincea bivacco c'è un'interessante raccolta selettiva di scritti di Mussolini Mussolini era una gran penna da questo punto di vista nella sua odiosità e nella sua dimensione criminogena un'interessante raccolta che è stata curata da David Vidussa dove ad esempio il termine bivacco ha una sua centralità Nicola assente per me come dire una conferma cerco sempre conferme tra il pubblico soprattutto non voglio vedere persone che svengono in buona sostanza ne sono gratificato ma anche trincea insomma trincea trincea lavorare ad esempio su quella parola lì non ti spiego cos'è la prima guerra mondiale è un macello di popoli no trincea prendi delle foto della trincea inizia a decostruire la trincea cosa vuol dire ad esempio cos'era la vita del fante che poi essenzialmente lo sapete tutti era un contadino 18-19 anni cos'era la vita ad esempio dell'ufficiale di complemento che arrivava dal liceo e che andava lì 180.000 ufficiali di complemento nella prima guerra mondiale una buona parte di esseri torna a casa e appartiene a quella borghesia frustrata di cui si diceva prima anche perché le promesse ovviamente non vanno a buon esito ma questo è tutto un altro discorso che non ci interessa altre parole chiave su cui lavorare mobilitazione e partecipazione in questo caso sono due cose similari e oppositive mobilitazione società in mobilitazione abbiamo a che fare con società industriali le due guerre mondiali sono guerre industriali perché muovono una grandissima quantità di elementi e di fattori non solo economici ma anche sociali partecipazione è la risposta come dire progressiva non dico neanche progressista progressiva rispetto ai processi di mobilitazione altrimenti c'è la passivizzazione che è la risposta che il fascismo dà è la risposta che il fascismo riesce a dare anche a chi partecipa poi al fascismo come ardito ex post come squadrista e quant'altro proprio perché è l'annicchilimento della politica in quanto tale il tema che abbiamo espunto completamente alle nostre riflessioni in una dimensione permettetemi molto non liberare ma liberaloide della violenza il tema della violenza attraversa la storia dell'umanità non può essere espunto solo con un giudizio di ordine morale vi faccio presente che la prima guerra mondiale non è soltanto il racconto della violenza che avviene sui campi di battaglia innumerevoli delle migliaia di morti di ogni giorno ma è il tema anche della generazione della genesi di un nuovo ordine che nasce a oriente la rivoluzione di ottobre ormai completamente obnubilata anche nei discorsi storici che celebra se stessa anche non solo ma anche attraverso come dire il legittimo ricorso illecito più che legittimo ricorso alla violenza per rompere la falsa di liceità la falsa legittimità dei poteri costituiti il discorso del comunismo non è un discorso sul combattentismo ma è un discorso i discorsi dei comunismi usiamo il plurale ma sono dei discorsi che legano anche la politica alla legittimità di certe forme di azione violenta frantumando diciamo una certa visione peraltro molto molto di superficie che invece il liberalismo del passato offrì come il fascismo si inserisca dentro questi dinami che è una cosa interessante è una cosa interessante perché il fascismo non è un qualcosa che nasce nel vuoto ma è un qualcosa che riempie dei vuoti e dà dei contenuti mitografici quindi combattimento e al litismo l'antisocialismo che va analizzato non solo come fenomeno fattuale ma come avversione nei confronti della socialità di un certo tipo di socialità che non sia organizzata se non attraverso criteri di uniformità uniforme uniformità non eguaglianza partecipazione socialità emancipazione ma uniformità prendete un film come una giornata particolare di scuola che rimane come dire insuperato insuperabile e tutte queste cose qua le trovate anche come dire l'entusiasmo per l'uniformità che una parte della collettività andava esprimendo in quelle circostanze e poi tutto un altro segno di questioni che a questo punto però non evoco più perché se non rubo veramente molto tempo soprattutto sugli anni principi che sono stati trattati antecedentemente tra 19 e 22 cioè eversione normalizzazione stato antistato e il passaggio a comunità nazione intesa come una dimensione che sempre più andrà etnicizzandosi perché è lo strumento allora come oggi per depotenziare prima e neutralizzare poi qualsiasi tipo di conflitto sociale che il fascismo si adopera essenzialmente su quella roba lì depotenziare rivendicazioni sociali quindi anche depotenziare il sentirsi parte di un gruppo che non sia solo siamo partiti dal soggettivismo dall'individualismo che non sia soltanto come dire appunto il soggetto individuale regolatria diciamo ma qualcosa di molto più consistente e condiviso è quella roba che manca oggi per l'appunto la fragilità della politica espropriata veramente scusatemi questi discorsi sui macrosistemi da un'economia senza volta ma è così e fa riflettere il fatto che tutto questo sia stato consegnato in meno e in mano a quelle forze che si definiscono variamente populiste sovraniste identitarie che nel loro modo straccione come avveniva anche nel passato hanno occupato questo campo che è un campo anche linguistico e semantico parlavamo prima di linguaggi efficaci e inefficaci la destra quella destra lì si è sempre adoperata diceva Gadda coprofagicamente per rubare parti del linguaggio altrui scapovolgendolo completamente e la stessa cosa sta avvenendo oggi in buona sostanza di proprio genera poco o nulla molto è quello che appartiene agli altri che viene letteralmente scaramentato per terra e trasformato proletariato la nazione proletaria peraltro non è solo un discorso socialista lo sapete benissimo senza andare a scomodare Pasquale Chiperes Carducci e quant'altro che hanno lavorato su queste cose qua letteralmente si intende questo è quanto quindi non vi ho dato delle indicazioni operative nette però chiudo veramente riferendomi a quello che è in buona sostanza un elemento di metodo importante visto che vivono visto che viviamo dentro una società dell'immaginazione e dell'immagine soprattutto l'immaginazione è già più caduca è già più fragile e molto meno fertile lavorare sulla scomposizione critica delle immagini secondo me soprattutto con un pubblico di studenti che si ritiene si pensa che abbia avuto una sua crescita nel corso di un quinquennio circa è un buon modo per introdurre questi macro temi in maniera come potrei dire non troppo pedante pedestre non solo rimanendo ancorati alla dimensione assolutamente cronologica grazie buongiorno allora attivo anch'io io attivo il cronometro così mi do un tempo intanto vorrei ringraziare coloro che hanno organizzato questa occasione per me è una grande occasione io non sono uno storico sono un insegnante con lobby della storia e ringrazio quello che mi hanno preceduto perché anche in questo caso hanno fornito un assist perfetto e il professor Vercelli in particolare ha anticipato e ha detto tutta una serie di cose che avrei voluto dire io quindi io la premessa la salto e vado direttamente e questo per me è molto prezioso per cui faccio una premessa alternativa molto molto breve e dall'intervento anche del professor Vercelli io traggo questa riflessione mi sono posto nel preparare questo intervento in quest'ottica ma come potrei raccontare la strage del 18 dicembre a dei ragazzi dai ventenni di oggi tenendo conto che parliamo un linguaggio molto diverso loro non hanno un linguaggio del 1900 e tenendo conto che la loro generazione e lo dico con empatia non con critica anzi è una generazione a cui la scuola ormai asservita al sistema neoliberista ha mutilato la concezione del tempo e come diceva bene il professore prima vivono un eterno presente ed è una vera mutilazione quella perché non avere più il senso del passato e la speranza in un futuro è una mutilazione profonda e grave vivono una sospensione dello spazio perché sono contemporaneamente in un luogo ma anche in un altro perché collegati costantemente ad altre dimensioni peraltro non del tutto reali ma potentissime forse quasi più potenti di quella reale e in ultimo una deprivazione radicale della parola un vocabolario ormai così ristretto da non saper descrivere le proprie emozioni e non avere le parole per descrivere le proprie emozioni è qualcosa oltre alla mutilazione è addirittura una una violenza autoinflictiva sono tre condizioni che ora non vorrei fare una sparata troppo grossa professor Vercelli ma è una situazione da realtà concentrazionaria in cui il tuo tempo il tuo spazio e le tue parole sono sospese ricordo Levi che cercava di tenere viva il vive le parole della commedia per non abbassarsi a un linguaggio fatto di oggetti e di necessità un linguaggio molto simile a quello attuale riferito a ciò che nell'immediato mi circonda ora partirei proprio da questi aspetti il professore citava le immagini ma va restituito a questa generazione la concezione del tempo storico dello spazio in cui si celebrano anche si celebra il passato ed è la parola che ormai manca mancano le parole per dire le cose dunque io vi propongo un piccolo percorso un piccolo laboratorio di storia io sono insegnante di laboratorio allora unisco un po' spero spero delle competenze laboratoriali con delle competenze di tipo storico quelle molto approssimative e dunque all'indomani della strage del 18 dicembre iniziano le celebrazioni dei caduti e chiaramente i fatti contingenti costringono una parte a poter celebrare molto poco gli 11 morti vengono seppelliti quasi di nascosto è diversa è il destino della celebrazione di Bazzani e Dresda chiaramente la realtà permette altri tipi di celebrazioni ora tornandomi di fronte degli studenti direi questo intanto celebrazione deriva da celebrazio ed è riunione e commemorazione e ricordare insieme ora mi pongo una domanda ma se una parte e l'altra commemorano i propri caduti è davvero possibile avere una memoria condivisa io non credo che le memorie possano essere condivise ognuno ha la propria memoria e oggi viviamo una realtà in cui la memoria sovrasta la storia la vicenda delle confine orientali viene strumentalizzata a fini pseudo storici quindi io direi che la funzione della storia è quella di sintetizzare le memorie la storia e l'operazione di sintesi e facendo un'operazione storica a volte arriviamo a conclusioni differenti da altre ma io ritengo che non si può non condividere un metodo che è basato su informazioni i documenti verificabili perché se no le cifre sono tutte uguali ognuno può dire mille duemila centomila tanto va bene tutto poi però c'è la realtà dei fatti che va ricostruita faticosamente con l'operazione storica ora sulla vicenda del 18 dicembre è possibile in classe magari con l'uso della LIM fare un piccolo laboratorio con gli studenti credo di sì abbiamo tanti strumenti oggi io mi sono laureato recentemente sono un pessimo studente nel 2020 ho dovuto fare metà della mia tesi che era sui gruppi regionali fascisti a Torino attingendo fonti online perché era tutto chiuso e da lì è stata una palestra straordinaria ma online veramente la LIM in classe è una finestra sul mondo straordinaria poi uno può scegliere di non aprirla la finestra aprirla o buttarsi giù dalla finestra quindi io sarei per aprirla e guardare il mondo ecco da quella finestra parto da una cosa semplicissima il il sito della stampa è online gratuito e se uno va a vedere ha la cronaca dei fatti di quei giorni e poi ha per esempio la possibilità data 22 dicembre di leggere la cronaca dei funerali di Vrez e Bazzani io allargo ma me lo sono trascritto per comodità e do solo qualche breve suggestione l'articolo si apre con le salme dei due fascisti trasportate al cimitero perdon grazie grazie a te grazie per l'intervento tecnico in realtà so condividere perché l'ho usato a lungo durante no è che non volevo combinare pasticci su un computer che non conosco e allora si apre in questo modo a proposito di creare una mitografia si può quindi in classe secondo me compiere un lavoretto di questo genere ecco le salme dei due fascisti trasportate al cimitero le salme dei due fascisti il ferroviere Giuseppe Drez era studente in ingegneria Lucio Bazzani sono state ieri mattina trasportate al cimitero il corteo al quale parteciparono tutte le squadre fascisti torinesi le rappresentanze di tutte le centurie piemontesi e molte associazioni mosse dal fascio sostò alla chiesa di San Massimo poi si avviò al cimitero attraversando la città le salme vennero collocate nel deposito questa è la sintesi poi comincia la celebrazione alle nove in corso Cairoli nei pressi della sede del fascio tracorso Vittorio Emanuele e Via Mazzini comincia a movimentarsi per l'arrivo delle squadre fasciste e delle rappresentanze cade una pioggerella minuta e fastidiosa ma la gente sosta ugualmente intorno ai carri funebri sui quali vengono deposte le corone le due vetture che seguiranno il corteo perché le salme saranno portate a braccia vengono coperte di fiori altre corone si trovano ancora nella camera ardente o seguiranno i feretri portati dai fascisti le squadre si dispongono sul corso Cairoli e sul corso Vittorio Emanuele in modo da poter entrare nel corteo nella posizione prefissa dai dirigenti alle dieci segnanti l'inizio dei funerali giunse il parroco di San Massimo eccetera eccetera il tratto del corso Cairoli fu tutta una selva di gagliardetti lo apre una squadra di fascisti ora vado a ruota libera scelgo frasi la musica fascista precede la prima salma la cassa è ravvolta nel tricolore e portata a spalla da otto fascisti ferrovieri seguono Dresla la moglie le autorità il direttore del fascio di Torino è al completo Brandi Marte eccetera eccetera viene poi la seconda salma quello di Lucio Bazzani che è portata dagli studenti seguono il feretro la madre del morto molti studenti la bandiera del Politecnico tutti i negozi dove passano le salme sono chiusi eccetera eccetera è una cronaca che trappela emozione chiaramente sembra che l'intera cittadinanza sia lì a partecipare sicuramente una parte della cittadinanza è rimasta scossa dal fatto che dei giovani si sono sparati per strada e poi altri sono stati prelevati in casa e ammazzati davanti alla famiglia segue e chiude questa cronaca il discorso di Rocca che è Massimo Rocca che era uno dei esponenti torinesi ma poi anche romani del fascismo che durava poco e vera poi espulso perché era troppo moderato dice questo Rocca con voce vibrante di commozione ha detto amici alla presenza di due morti ogni frase di poesia parrebbe profanazione sono i primi due morti che si registrano dopo il trionfo della rivoluzione fascista ma sono morti senza la gioia della battaglia dice questa è una tematica costante all'istoreto nella biblioteca c'è una pubblicazione che sono i nostri martiri pubblicato della partita nazionale fascista e lì vengono celebrati tutti i caduti o anche i presunti tali e i caduti fascisti e immancabilmente viene descritto come sono morti sono sempre morti in un agguato i bolshevichi si nascondono dietro i muri e all'improvviso escono fuori e uccidono addirittura coloro che davano l'assalto alla camera del lavoro muoiono in una specie di agguato ma sono coloro che stanno assaltando la camera del lavoro però sono vittime non hanno potuto combattere vengono sempre colpiti alle spalle questa è anche una mitografia della vittima che è colui che assalta gli altri però poi quando muore dice si ma ma colpito alle spalle questa è la mistificazione della realtà e Rocca conclude con parole di pacificazione apparente ma dice mi spiace per quello che è caduto non deve cadere mai più una violenza del genere la evoluzione fascista però è intangibile e a questa i nemici devono accedere l'avversario politico non è uno che ha una idea diversa è uno che deve sottomettersi e se non si sottomette lo facciamo fuori così smette di opporsi la cosa che mi colpisce di più di questo articolo però non è io non so un ventenne di oggi di fronte a queste parole ma quello che a me colpisce di più è quest'ultima frase qua l'articolo si chiude le salme sono state trasportate per la famiglia la desiderio della famiglia alla città di origine del Dresla e del Bazzani che non erano torinesi nessuno dei due e poi c'è un trafiletto che non fa più parte di quell'articolo e la famiglia del ragioner Berruti Carlo era un consigliere comunale annuncia per oggi alle 11 l'accompagnamento funebre della salma della camera mortuaria al cimitero generale mi sembra che qua ci siano già tutti i rapporti di forza e la città avrebbe partecipato con commozione al funerale di due giovani Dresla aveva 27 anni per l'epoca era già un uomo fatto e finito non era un giovane ma mentre Berruti Ferrero forse seppellito di nascosto perché chi aveva il coraggio di andare al funerale di Ferrero perché il rischio è che ti aspettassero al cimitero e toccassero la stessa sorta a te un po' come succedeva con i rappresali poi durante l'esistenza in cui i cadavri non venivano dei partigiani spesso non venivano rivendicati se non parecchi giorni dopo quando si era perché la paura era che andare là a chiedere il cadavere di proprio figlio e proprio fratello significasse accompagnarlo nella stessa destino ora questo era un piccolo esempio di quello che potrebbe essere l'uso della parola dell'epoca per ora un evento come questo ebbe una risonanza internazionale io ho trovato su un link del Museo Torino che è fantastico come sito è l'articolo del New York Times qua potremmo fare interdisciplinarità quindi c'è anche l'inglese dieci uccisi a Torino nei disordini fascisti l'organizzazione dei Mussolini compie una rappresaglia sull'imboscata a causa dell'imboscata dei comunisti quindi quella di Prato sarebbe un'imboscata eccetera e beh i nemici forzati a bere l'olio quindi vedete che sintesi è quasi più obiettiva New York Times che deve sintetizzare che non chiaramente le pubblicazioni del 20 dicembre che chiaramente questo è del 20 dicembre sì questo è del 20 dicembre ed è un esempio di ora le commemorazioni dei fascisti chiaramente proseguiranno a Dresde e Bazzani verrà intitolato un monumento sul libro di Aduci Berruti Maida nel capitolo quarto di Bruno Maida del professor Maida ci sono le immagini di questo monumento che io ho anche ripreso ma sono abbastanza note queste no scusate questo non c'è niente c'è sulla stampa sempre la notizia del Turati a Torino inaugura il monumento e poi ecco le immagini a Dresda e Bazzani o per essere più precisi a Bazzani viene poi intitolato anche il circolo orionale il quarto circolo orionale di diciamo San Salvario Valentino potremmo indicarlo così noi e il gruppo orionale intitolato questa è una cartina che ho elaborato un po' io e questo qui il quarto Bazzani questo è Corso Vittorio sotto Corso Bramante quell'altro in rosso quella verde è Vianizza e poi chiaramente il Po quindi è il San Salvario attuale e dove sono avvenuti poi i fatti peraltro il gruppo orionale Bazzani inaugurerà poi anche una mostra con i Cimeli negli anni 30 ne parla Bruno Maida è curioso il fatto per esempio sarebbe interessante indagare questo con magari i nostri studenti come mentre Bazzani venne celebrato a lungo molte cose l'attuale via Saluzzo era via Bazzani e invece Dresda viene un po' dimenticato eppure di un ferroviere ce n'era molto bisogno tra i martiri fascisti perché non è che i ferrovii godessero di tutta questa e invece Dresda finisce in margini gli viene poi inaugurata una via che questa immagine questa non è online la devo a Nicola Ducci Guida Paravia di che anno Nicola Ducci del 34 viene intitolato una piccola viuzza a Giuseppe Dresda nei presidi Piazza Massagua siamo una piccola viuzza mentre a Bazzani chissà perché anche tra i martiri della stessa parte rimane poi e questa è la celebrazione diciamo dei fascisti ho trovato poi un numero della Gazzetta del Popolo del 19 dicembre 36 ecco il 19 dicembre 36 Bazzani e Dresda saranno commemorati domani un piccolo trafiletto quindi e la Gazzetta del Popolo non ci andava per il sottile nel fare titoli roboanti evidentemente negli anni 30 la memoria di Dresda e Bazzani comincia a diventare meno utile e quindi piano piano vengono anche loro dimenticati esiste poi chiaramente una memoria dei caduti antifascisti una memoria che invece ha avuto grosse difficoltà a essere celebrata sicuramente è stata conservata perché io sono sicuro si parlava degli scioperi del 43 io sono sicuro che quando ci sono quelli scioperi a Torino nel 43 il pensiero va ai caduti antifascisti del dicembre 22 perché in quel momento loro erano la resistenza erano loro i partigiani in quel momento poi arriverà un'ondata resistenziale di dimensioni ben diverse e quindi in qualche modo i martiri del 18 dicembre 22 in qualche modo rimangono sullo sfondo ma vengono offuscati ma nel marzo 43 erano sicuramente loro a Torino i partigiani a cui guardare qui abbiamo l'avanti del 18 dicembre 23 un anno dopo e si titola ricordare e dice non bisogna dimenticare i caduti e c'è notizia del fatto che i comunisti hanno messo una lapide hanno messo una lapide la notte del 18 e la mattina del 19 è stata prontamente demolita dai fascisti intervenuti ma il testo rimane e il testo da cui ho tratto il titolo della mia perché mi sembra un testo particolarmente significativo e recita così ai martiri militi indomabili della rotta proletaria crudemente trucidati dalla feroce fascista nelle tragiche giornate di dicembre i lavoratori comunisti torinesi insegno e ho trovato questa frase particolarmente profetica insegno di perenne ricordo e di giurata di scossa questa è la risposta forse alla frase di Brandi Marte i morti fascisti non si piangono si vendicano e già in questa frase c'è una capacità di sintesi dell'ottica di un fascista migliore non potrebbe esserci e i comunisti dicono perenne ricordo ma di giurata di scossa passeranno vent'anni prima di quegli scioperi del 43 e ora l'Avanti l'ho trovato online sul sito del senato quindi tutta roba preferibile online ma se si va sul sito della Biblioteca Nationale de France ho trovato in questi giorni una cosa meravigliosa qua intanto il testo che ho appena citato vabbè anche per coloro che sono a casa che magari ma sul sito della Biblioteca Nationale de France si trovano in forma digitalizzata le pubblicazioni che gli antifascisti fecero in quegli anni in Francia dove c'erano tantissimi rifugiati ed ecco che qua il giornale L'Humanité e troviamo il numero dell'Humanité del 12 gennaio 24 quindi c'è un po' di distanza dall'avanti da qualcuno e qui troviamo questo articolo Torino comunista per i suoi caduti c'è di nuovo la notizia della lapide ma questa volta pubblicano la foto della lapide questa qui che vedete in alto si può riconoscere la scritta i martiri militino indobiti eccetera i lavoratori comunisti torinesi in segno di paremne ricordo e di giurata risposta questa è l'unica foto che abbiamo di questa lapide era questa la sorpresa molto interessante però che se andiamo andiamo avanti scopriamo che i metallurgici di Mosca e i metallurgici di Torino all'epoca funzionava così ciò che succedeva a Torino rimbalzava fino a Mosca ad altre parti del mondo e là gli operai e i lavoratori facevano gesti di storie di storie di arietà questi i metallurgici di Mosca decidono di fare questo anche questo lo trovate su museo di Torino decidono di dedicare di intitolare un'azienda l'azienda produttrice di automobili di Mosca la più famosa quella che poi produrrà le ziguli dedicano a Pietro Ferrero il nome dello stabilimento è come se voglio dire avessimo intitolato la Fiat a un caduto a un operaio caduto in Unione Sovietica magari durante la guerra civile che so io e questo vi fa capire la dimensione della solidarietà internazionale ora chissà cosa penserebbe un ventenne di questo ciò che accade oggi ciò che accade nell'altra parte del mondo lo viene a sapere in tempo reale ma fondamentalmente viviamo in un'epoca di indifferenza totale uno degli effetti anche del sistema attuale non solo quello scolastico è proprio diseducare l'empatia negli esseri umani e renderli indifferenti al destino indifferenti al destino proprio peraltro e degli altri non era così è stato un tempo direbbe qualcuno in cui il mondo era giovane e forte e provava sentimenti bene un'altra notizia che troviamo sulla stampa ed è sempre del 24 è l'arresto di giovani di attivisti comunisti che vendevano dei calendari commemorativi della strage per raccogliere denaro da mandare alle famiglie dei detenuti gli operai detenuti ancora in carcere a seguito delle occupazioni delle fabbriche del Vienno Rosso e vengono eccolo qua un bellissimo articolo molto molto equilibrato apologia di reato a mezzo di calendario cioè già apologia di reato a mezzo di un calendario è un titolo fantastico e qui leggiamo che un signore correo della divulgazione di calendario incitatore all'odio fra le classi sociali il quale reca tra le altre anche le foto di Carlo Berruti Pietro Ferrero e poi gli altri caduti no vedete ci sono tutti molti dei caduti vecchio chiomo eccetera e questi qua andranno a giudizio perché hanno raccoglievano denaro pubblicando un calendario un calendario con le foto per capire qual era il clima terminata faccio un salto in avanti e mi ha colpito il titolo di questo numero della stampa siamo il 30 gennaio 46 vie corse e piazze nomi degni di memoria cancelleranno ogni ricordo fascista è molto ottimista questa via Gioda viene intitolata via Giovanni Giolitti eccetera eccetera chiaramente cambiano i nomi delle strade delle piazze ho trovato una frase particolarmente significativa nel testo da parte di Bruno Maida sempre nel quarto capitolo che dice che in fondo l'intitolare strade piazze monumenti ha la funzione di rendere nello spazio la dimensione temporale che è fondamentale ancora più oggi proprio in cui viviamo un tempo in cui questi parametri sono completamente alterati ora sempre online ho trovato sul sito dell'Ampi una cosa interessantissima cioè anche gli anarchici celebravano i loro caduti lo facevano all'epoca con una modalità anarchica e cioè ho scoperto questo e poi ho fatto delle verifiche sembra corrispondere alla verità quando l'anarchico Gino Lucetti nel settembre del 26 lancia una bomba verso l'automobile di Mussolini bomba che non causerà danni perché anziché andare sotto l'auto finirà sul tetto e quindi non succederà niente ma Lucetti arrestato dichiara ho meditato a lungo questo attentato fin dall'epoca delle stragi di Torino ad opera dei fascisti sono passati 4 anni l'anarchico Lucetti fa un attentato di Amitardo a Mussolini e dice questo è per i caduti di Torino questo significa che al di là del fatto in sé chiaramente c'era una grande voglia di rivalza di rivincita e c'era sicuramente un grande dolore rispetto a dei morti dimenticati o celebrati o addirittura vilipesi e concludo il dopoguerra sempre per fare questo piccolo escursus con i nostri studenti dopoguerra questo ve la sintetizzo vi risparmio i documenti perché sono passati 29 minuti e ho abusato del tempo nei primi anni 50 sui quotidiani trovate ancora delle celebrazioni molto partecipate beh sono vivi i compagni degli undici caduti non so se penso a Giovanni Roveda o a Giovanni Carsano che celebrano fanno delle celebrazioni anche perché erano i loro compagni di lotta dell'epoca alcuni di loro erano sfuggiti per puro caso a essere autocidati e poi negli anni 60 le notizie diventano anche lì dei trafiletti forse il famoso boom economico ha distratto un po' c'è poi una ripresa negli anni 70 chiaramente con i movimenti studenteschi c'è una ripresa dell'attività antifascista e io ho online anche l'unità ho trovato un bel articolo di Diego Novelli chiaramente dove mezza pagina si ripercorre tutto ciò che è accaduto anche a Berruti e a Ferrero è stata intitolata una via tra corso Tazzoli e corso Unione Sovietica quindi siamo in quella zona una via non particolarmente un po' defilata devo dire però oggi diciamo che quello che rimane oltre alla rapide che conosciamo e chiudo con quello che è la riflessione di Bruno Maida faccio mia la sua riflessione ho fatto un po' le parti del professor Maida e cioè la lapide che oggi abbiamo alla stazione della metropolitana la stazione 18 dicembre oggi venendo qua sono proprio passato da Porta Susa e poi dal corso Principe Eugenio dove c'è il platano famoso che veniva usato per impiccare allora voglio solo fare una piccola riflessione a ricordare i martiti dell'eterna libertà e la formula che il municipio di Torino decise di usare per i partigiani ed ecco che in qualche modo mi sembra molto significativo che gli 11 caduti del dicembre 22 possano oggi essere annoverati come diciamo così primi caduti torinesi anche se non sono i primi ce ne furono altri prima ma comunque primo segno della resistenza che era ancora di là da venire ma trovano secondo me un significato in questo e la domanda che si pone Maida è proprio questo i ragazzi che oggi scendono dalla metro quella metro su cui viaggiava Dante di Nanni nella canzone degli Stormy Six i ragazzi che scendono oggi dalla metro leggono stazione 18 dicembre io alla loro età a 20 anni non mi sono mai posto la domanda che cosa significasse 18 dicembre la chiamavo piazza di Porta Sud era già difficile per me a 20 anni sentire questi avvenimenti come vicini ho fatto una piccola e chiuso con questo una piccola ricerca di cosa succedeva cent'anni prima nel mondo cent'anni prima che io mi diplomassi era l'86 ho trovato vabbè un'altra strage questa nell'Illinois a Chicago la strage del Haymarket dove vengono uccisi degli operai che manifestavano e poi nell'87 ho trovato la battaglia di Dogali ecco se mi avessero detto nel 1986 cosa ne pensi della battaglia di Dogali avrei detto boh non ho quindi arriva da lontano questa arriva da lontano l'incapacità di trasmissione della memoria e soprattutto del senso storico io stesso appartengo a già una generazione che smarriva oggi credo che il fenomeno si sia ulteriormente accresciuto e mi sembra importante che questi tipi di manifestazioni di convegni possono farci riflettere sul fatto che possiamo provare a trasmettere con i ragazzi con gli strumenti che ci vengono forniti oggi dal ministero dell'istruzione e del merito grazie buongiorno sono Giovanni Salierno ho l'onore e la sfortuna di dover parlare alle 13 quando tutti ormai siamo un po' stanchi e le 5 relazioni precedenti sono state straordinarie dense e ciascuno avrebbe necessitato di commenti domande solo sull'ultima relazione volevo solo fare due piccole note e poi intuburo perché sul discorso delle cerimonie dei funerali ci sono aspetti veramente interessanti lui ha citato il fatto che i funerali dei martiri a Torino non furono celebrati a Favri invece il funerale di Tarizzo fu celebrato ci fu anche un'inserzione sulla stampa che appunto si ritrova facilmente andando online per cui proprio si vede come le comunità reggirono diversamente in funzione delle possibilità quindi la comunità di Favria dove peraltro abbiamo presentato il libro questa primavera è stata una bella esperienza quella di andare a parlare alla comunità di una vicenda loro di questo martire Matteo Tarizzo ucciso a Torino ma nativo di Favria e quindi proprio come le comunità reggivano diversamente quindi a Favria ci fu un funerale importante partecipato e citerei anche il funerale di Pietro Longo nell'astigiano cunico il 29 novembre come diceva Barbara prima fu ucciso il primo torinese peraltro Luigi Longo che era nipote erano tutti di questo paese di questa famiglia Luigi Longo un importante personaggio politico del Partito Comunista italiano parlerà dell'omicidio di Longo come la prima vittima della strage di Torino perché a tutti gli effetti le dinamiche le modalità sono le stesse ecco al funerale di Longo i fascisti intervengono e bloccano i relatori tra cui Parodi a fare la celebrazione ufficiale e fanno cadere il feretro giusto per capire qual era l'umanità di queste persone questo l'altro inciso che volevo fare quando ha parlato di Roveda ci tengo a sottolinearlo Roveda è stato l'ultimo segretario della Camera del Lavoro nel 22 quando viene occupata il 18 dicembre poi andrà in mano alle organizzazioni fasciste e sarà il primo sindaco nominato dal CLN nel 45 e nei giorni successivi alla liberazione questo per dare l'idea di come la Camera del Lavoro fosse il vero luogo vivo del Bienio Rosso e dell'opposizione antifascista ci tenevo a farlo subito così era in continuità con l'intervento di Marcello che mi ha perseguito io invece farò un intervento molto esperienziale io non sono docente non mi occupo di storia mi occupo di metrologia industriale e mi sono avvicinato alla studio di questa vicenda mediante un percorso di società civile un'associazione fatta una piccola associazione associazione di tiche lavoro che sicuramente non conoscete nel nome è fatta di alcuni iscritti alla Filt il sindacato dei ferri ovieri io sono iscritto alla Fion quindi la solita pecora nera e ci siamo trovati a riflettere su questo evento che andava a toccare un po' le corde ovviamente dell'antifascismo e della militanza e abbiamo visto come le vittime poi il gran parte del quartiere di barriera di inizio fosse da dei ferrovieri era sindacato uno dei più agguerriti del Begno Rosso quindi uno dei quelli che viene maggiormente attaccato dei fascisti in quegli anni Berrutti stesso consigliere comunale viene prelevato nel suo ufficio delle ferrovie quindi anche lui era un ferroviere e quindi ci siamo appassionati a questa storia e abbiamo cercato la maniera per renderla trasmissibile ai torinesi all'interno dei contesti della società civile l'associazione etica e lavora appunto notava come alcuni temi cari nel mondo sindacale durante quelli che sono i nostri seminari o i direttivi poi si facesse fatica a trasferirli nella potilità in alcuni momenti extra lavorativi per cui l'obiettivo è sempre stato quello di provare a portare fuori dal mondo del lavoro queste tematiche quindi ci siamo occupati di temi come il caporalato ci tengo questo perché quando si parla di mafio fascismo poi andiamo a parlare di caporalato e mi preoccupa la nomina di questo ministro all'agricoltura proprio per il suo background e per il suo territorio da partenza all'agropontino che è uno di quelli in cui il caporalato è più attivo diceva Marco Mizzolo un ricercatore straordinario che sta facendo le battaglie straordinarie nell'agropontino come il partito dei fratelli d'Italia in Commissione Europea aveva detto che il caporalato non esiste è un fenomeno marginale no non esiste peccato che poi i lavoratori vengono schiavizzati alcuni muoiono per stranamente altri si suicidano perché non ce la fanno più quindi e sicuramente sono temi che come associazione vogliamo portare all'attenzione della società civile e sulla stagia del 18 dicembre abbiamo fatto un percorso di recupero della memoria abbiamo trovato una via che potesse essere facile da trasmettere ai torinesi la prima iniziativa l'abbiamo fatta nel 2012 per il novantennale ed era una classica conferenza negli anni abbiamo fatto un po' di conferenze e ci siamo reso conto che sicuramente vanno bene per passare alla parte nozionistica però il pubblico ovviamente deve essere un pubblico preparato pronto a questo tipo di confronto però si necessitava anche di una parte più chiamiamola emozionale comunque dovevamo metterci della creatività per trasmettere ai nostri amici ai torinesi questa memoria il classico esempio la celebrazione del 18 dicembre nella piazza è fatta la mattina quando molti di noi o sono al lavoro o comunque non possono partecipare permettetemi questa parola partecipano gli addetti ai lavori per tanti motivi o pensionati che possono partecipare e quindi incominciamo a fare le serate proprio per poter permettere anche a chi lavorava la mattina di poter partecipare poi abbiamo trovato una soluzione che è quella che è il tram della memoria il tram della memoria abbiamo avuto la possibilità di sperimentarla i primi anni sono state delle delle modalità molto militante adesso ci siamo quasi professionalizzati nel senso che abbiamo delle caratteristiche che poi vi illustrerò per permettere di rendere il tour fruibile il tram è stato facilitato dal fatto che molti dei nostri iscritti all'associazione sono tramvieri quindi i volontari dell'associazione che gestisce i tram storici erano loro colleghi quindi ovviamente la facilità di comunicazione per prendere accordi era un motivo che legava il tram era al mezzo dei cittadini di Torino del tempo quando i tre redattori dell'ordine nuovo dicono abbiamo rischiato la pulsazione poi siamo stati miracolosamente liberati si parla della mattina del 19 dicembre loro corrono sul tram era proprio quello degli operai per andare a lavorare quindi era proprio un elemento fisico che ancora conosciamo e questo può essere molto utile per raccontare la vicenda ai giovani studenti in questi anni abbiamo organizzato 15 tour già e tre li abbiamo dedicati alle scuole uno l'abbiamo fatto in collaborazione con ACMOS con Gabriele che è qui presente in sala l'abbiamo fatto già parecchi anni fa quest'anno invece in primavera con Nicola abbiamo fatto altri due tour ecco proporre un tram in cui si racconta la vicenda girando i luoghi della centro Torino ed è stato molto importante che praticamente tutti i redattori hanno fatto vedere le mappe di quel tempo perché comunque la mappa è un elemento essenziale per rendere tangibile quella che era Torino un tempo questo permette di da una parte immergersi in una città che non c'è più quindi soprattutto per i ragazzi è un momento di passaggio mentale che apprezziamo e poi di poter raccontare degli episodi che comunque li toccano diciamo da un punto di vista prettamente della spiegazione abbiamo notato che i ragazzi del superiore alle volte non hanno proprio tutti i contenuti e alle volte facciamo dei riferimenti che non colgono ovviamente più il professore li ha preparati più oggettivamente è facile comunicare però è indubbio che quando passiamo col tram sul Po e racconto che Pro Bomari viene buttato nel fiume gelido gli viene sparato viene crevellato di colpi e si salva anche i più strafottenti rimangono un attimo attoniti e ci guardano e dicono ma è successo davvero sì è successo davvero leggete libri quindi quella della memoria fisica della città è uno strumento che abbiamo visto permette di trasmettere questa conoscenza quindi questa è una potenzialità la difficoltà sulla preparazione per i studenti nell'avere la la conoscenza completa della materia e un altro elemento di difficoltà purtroppo sono i costi del tram che la vettura va affittata e il fatto che sia coloro che lo guidano sia noi che facciamo la relazione facciamo i narratori siamo dei volontari o anche i ragazzi di Atmos che ci aiutano adesso stiamo facendo il tour con le cuffiette e i microfoni e questo ha permesso veramente di fare un salto di qualità nel percorso che proponiamo e anzi stiamo anche limitando l'accesso solamente a posti seduti proprio per mettere a chi fruisce di fruire bene per cui l'anno scorso quando è uscita la notizia tutta l'Unione 7 abbiamo bloccato le iscrizioni a una trentina di persone adesso abbiamo fatto un tram speciale edizione 30 ottobre in questo periodo e abbiamo già bloccato le edizioni senza anche pubblicizzarlo proprio perché il passaparola serve per poter promuovere queste iniziative nell'associazione civile quindi diciamo il tram sicuramente è stato uno strumento utile e un bel risultato realizzato per poter trasmettere questa memoria ma potenzialmente ci possono essere altre modalità di comunicazione in quest'ultimo anno ho fatto abbiamo fatto anche con i suggerimenti di Nicola Barbara e Bruno delle ricerche iconografiche infatti quando ho presentato quella lapide mi diceva questa sorpresa sicuramente ci sono delle fotografie che magari non si sono ancora scoperte e si possono scoprire la strage del 18 dicembre è tutto sommato una strage anomala e paradigmatica ed è per quello che anche un po' tra virgolette ci si può appassionare nel raccontare nella memoria anomala per tanti versi perché appunto è una strage che è andata addirittura su New York Times subito pochi giorni dopo la strage adesso praticamente è conosciuta solo a Torino se andiamo nelle altre città non è conosciuta comunque se parliamo con qualsiasi persona è già Torino adesso con la metro fortunatamente si è fatta una ripresa della memoria ma prima della metropolitana probabilmente c'era una caduta di questa memoria quindi un fatto assolutamente straordinario che è conosciuto solo a Torino anomala perché sto parlando della parte iconografica non c'è nessun documento che raccolga le 11 immagini dei voti delle vittime questo tutto sommato non è proprio normale perché per esempio qui ho un libro stampato nel 75 che riprende un libro del 30 fatto a Berlino dagli antifascisti c'è una pagina con i nostri morti quindi già al tempo si facevano le pagine dei martirologi anche per gli antifascisti per l'opposizione sicuramente i fascisti avevano fatto i loro libri anzi ce n'è proprio uno che è interessante consultare in biblioteca il libro di Bianchi di Vigny richiesto probabilmente da Brandi Marte per fare la storia del fascismo un libro del 39 dove ci sono tutte le immagini dei 12 cosiddetti martiri fascisti quindi le immagini c'erano eppure sulle 11 vittime non c'è un documento noto che le raccolga tutte 11 questo calendarietto citato da Marcello dice che ce n'erano 8 perché comunque anche nel fare questo documento i compagni di allora avevano scelto le 8 vittime che erano proprio che sentivano loro alcune vittime erano poi state prese per sbaglio per cui non erano neanche sentite come vittime della rappresaglia quindi il fatto che non ci sia un insieme di immagini è comunque un fatto anomalo quindi abbiamo fatto un lavoro per ricercare tutte queste immagini dovremmo riuscire a presentare tutte le immagini raccolte il 19 dicembre all'istoreto e comunque sarà un momento in cui di memoria non banale se volete su internet trovate solo le foto di Ferrero segretario della FIOM e di Berruti consigliere comunale le altre si trovano se si vanno nelle ricerche dei giorni giusti sia dell'avanti che anche dell'unità adesso andrò in biblioteca a cercare un microfilm dove c'è un'immagine dell'unità forse troviamo anche l'undicesima vittima il cui volta al momento non siamo ancora riusciti a reperire che è Massaro un altro aspetto interessante che ho portato avanti sempre relativamente al discorso delle immagini è stata quella della ricostruzione dei busti questi sono due piccoli busti non sono di Mussolini visto che purtroppo quando siamo partiti nel 2012 a fare questo approfondimento e questa ricerca non so voi ma io ricordo le edicole piene di volti di Mussolini e le amanti del Duce e cosa faceva di sport il Duce e c'era proprio una retorica non banale posso raccontarvi anche con un aneddoto che pochi mesi fa in una fabbrica del Bresciano sono entrato nell'ufficio di un titolare c'era un bel busto di lui e questo titolare di fronte a me ha preso un ragazzino di 21 anni l'ha preso per le orecchie perché stava prendendo il caffè con me che era il suo cliente quindi era una cosa assolutamente romana l'ha preso e detto torna a lavorare quindi è un esempio chiaramente però non è banale non è banale parlare di come comunque il fascismo voglia come diceva giustamente Vercelli depotenziare le rivendicazioni sociali e quindi sia dal punto di vista del confronto in fabbrica sia dal punto di vista del caporolato dove ci sono veramente degli spazi terribili sia di battaglia ma anche di soprusi non è banale affrontare queste discussioni sul modello fascista che comunque è latente per cui riprendere in mano l'immagine è stato utile tenete conto che per fare queste due riproduzioni ci sono volute una decina di ore di lavoro da parte di colleghi lavoro nel settore quindi avessi dovuto fare una commessa di lavoro sarebbe stata onerosa questo mi serve per motivi didattici perché delle classiche volessero fare un percorso di analisi sulle immagini sicuramente se sono istituti tecnologici hanno magari un 3D un software 3D noi ci occupiamo professionalmente di metrologia per cui lavoriamo con questi software si può fare un percorso di rivisitazione delle scansioni che abbiamo fatto e del percorso che ha portato la stampa 3D banalmente possiamo dire che con l'immagine di backup qualsiasi danno che venisse fatto a questi dibussi reali quello di Ferrero è conservato presso la sede della FIOM in via Sagresa e Michele quello di Tarizzo abbiamo scoperto la sera che abbiamo fatto la serata a Fabria essere conservato presso l'ampidi di Fabria Rivarolo che è una bella realtà banalmente ci fosse un'irruzione come è stata fatta a Roma l'anno scorso per devastare una sede distruggere o portare via di pezzi nel momento che questi due busti venissero sottratti o distrutti con l'immagine CAD potremmo ricostruirle comunque è un'operazione di memoria non banale su questo ho trovato un libretto molto interessante che consiglio a chi insegna storia ma magari si interfaccia anche con docenti di arte che è giù i monumenti punto interrogativo una questione aperta di una torinese Elisa Parola in cui si riflette proprio sul senso dell'arte della memoria storica sul senso dei monumenti Elisa Parola dice il monumento è un'opera d'arte sicuramente ma è anche un dispositivo comunicativo la trovo una frase straordinaria da approfondire ci si può veramente lavorare con i ragazzi perché comunque capita sempre di trovarsi di fronte a mostre in cui ci sono monumenti anche per strada se pensiamo al monumento simbolo di questa strage è il monumento al re Vittorio Emanuele II in corso Vittorio Emanuele che incrocia a corso Galilio Ferraris questo è il luogo dove viene lasciato il cadavere di Ferrero è il luogo dove 50 anni dopo morirà Brandi Marte di fronte in una clinica di fronte e questo monumento è tutto da studiare cioè il piedistallo è più alto della statua ed è un chiaro inno alla potenza di questa di questa monarchia che poi fu complice della nascita del fascismo questo è proprio un elemento comunque da riprendere nelle spiegazioni perché come diceva giustamente Nicola i numeri fascisti a Torino erano veramente bassi probabilmente magari il fenomeno si sarebbe comunque alla fine ritrovato però stiamo parlando di 3.000 persone mal contate che come diceva Igor si confrontano come una comunità di 200.000 operai con le loro famiglie cioè stiamo parlando di quello 3.000 che con la loro violenza hanno messo a tacere una comunità di 200.000 cioè capiamo cosa vuol dire cioè imporre con la violenza e con la complicità ovviamente delle forze regolari questa violenza questa comunità che è soprattutto da riscoprire la comunità che si ritrovava alla Camera del Lavoro c'era oltre alle parti di ufficio che chiamavano sindacale c'era anche la parte di redazione dell'Ordine Nuovo c'era il birrificio c'era il teatro c'era una biblioteca era proprio un luogo di vita anche interessante nel rapporto fra i luoghi notare come la Camera del Lavoro e l'Ordine Nuovo erano gli unici due luoghi centrali nella Torino Centro rispetto ai circoli periferici e sono i due luoghi che i fascisti attaccano in quei 60 giorni per poter reprimere Torino quindi il loro obiettivo militare di questi 3.000 è mettere a tacere la Camera del Lavoro e l'Ordine Nuovo proprio come obiettivo militare quindi ecco ci sono molte vie di lavoro per comunicare ovviamente i contenuti gli storici le modalità però la creatività può servire veramente per entrare in relazione con giovani che magari hanno un altro linguaggio o hanno altri mezzi poi ci sono anche le letture un altro mezzo quello delle letture quando abbiamo avviato il percorso per la preparazione la ricerca e poi la pubblicazione del libro che abbiamo presentato oggi La nascita del fascismo nel 2019 il testo più completo era il testo di Carcano del 1973 Carcano l'aveva scritto da giornalista non da storico però aveva ancora dentro la rabbia perché erano passati solo 50 anni quindi raccoglieva le testimonianze di persone che avevano visto la strage o comunque i familiari di queste persone quindi mette nel suo libro ancora della rabbia poi Brandi Marte è morto da due anni e ricordiamolo Brandi Marte muore come uomo libero perché viene assolto da un tribunale del repubblicano nel 1952 per insufficienza di prove quindi questo è un altro elemento non banale da ricordare quindi in Carcano c'è questa spinta emotiva e giornalistica non c'è l'approccio storico però se leggi i testi ci sono alcuni passi che se vengono letti in classe da chi fa laborato di teatro sono ottimi peraltro su Carcano annunciamo che grazie alla fondazione Gramsci e all'impegno personale di Pierino Crema che adesso è arrivato in sala e penso vada ringraziato verrà rifatta la pubblicazione e a fine novembre il Carcano sarà di nuovo disponibile con un libro nuovo e ci saranno assolutamente all'interno delle categorie della CGL alcune categorie che prenderanno quindi penso che ci sarà modalità per capire come reperirlo perché è sicuramente un testo che va ripreso quando con Berruti e Duce abbiamo pensato questo libro manca la conclusione storica però sicuramente quello è un pezzo che ha fatto parte del percorso di memoria e cosa dire ancora 2023 ci saranno tante cose ci sono ancora dei margini per scoprire cose nuove e un'altra anomalia di questa vicenda è il fatto che la vicenda iniziale quella della notte del 17 dicembre non è ancora stata sviluppata a fondo per cui probabilmente sarà necessaria una pubblicazione di adduci che definitivamente metta un punto sul cold case che rimane aperto giusto? perché a tutti gli effetti è un cold case conferma che dire proviamo andare alle conclusioni che poi lasciamo ovviamente ai padroni di casa abbiamo parlato di mappe c'è stato un po' di materiale adesso cercheremo di capire come confezionarvelo e mandarvelo via email così oltre al libro avrete anche qualche cosa di più semplice anche da stampare magari da trattare coi ragazzi direi ringraziando ancora gli intervenuti anche Bruno Maida che oggi non c'è ma sicuramente come diceva lui ha contribuito molto a questa riflessione chiuderei con una battuta voi dite ai vostri studenti mi raccomando preparatevi alle interrogazioni e agli esami ecco penso che per arrivare al centenario ci siamo dovuti preparare penso che oggi abbiamo fatto vedere che c'è stato un lavoro in questi anni che ha permesso di spiegare una vicenda ma anche dare diciamo delle sollecitazioni per poter fare un lavoro anche significativo intanto anche io ringrazio chi è intervenuto oggi a nome dell'FLC e di Proto per Sapere Igor Piotto che ha coordinato prima i lavori insieme a Nicola Ducci Barbara Perruti naturalmente anche Claudio Vercelli Marcello Quaglia e lo stesso Giovanni volendo siamo andati un po' lunghi ma va bene così perché è stata una giornata ricca e interessante di spunti sono previste eventualmente la possibilità per chi volesse fare degli interventi siamo ancora qua se c'era qualcuno che voleva intervenire a fare domande relatori sì prego come insegnante a redditi che è stata informata tutta una informazione di vita sociale di vita e tutta noi siamo andati per esempio i professionali per il vecchio che avremmo secondo me di faremo il risultato che la mia guina storia della tendo scarezza però voglio ricordo automaticamente riconoscere la situazione che è la fila dei studenti e riconoscere la e in modo sostanziale e domanda per la povera e la città questi argomenti sono anche per i buoni sociali io scopro a me come dire troppo forte queste tematiche che sono nuove ma che diritti insomma i sociali che noi la vediamo oltre ancora una caricia neopro una caricia normalica è banalizzo ma questo per molti ne hanno compito e se io l'ha detto magari o il spesso e mi fanno le re volentieri grazie per lo spunto naturalmente per far sapere l'agenzia formativa con cui collabora le ccgl ci saranno sicuramente iniziative formative informeremo naturalmente tutte e tutti sui prossimi incontri ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi ringrazio ancora tutte e tutti per la partecipazione niente chiudo il collegamento alla prossima iniziativa 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 Grazie.